La consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, ha annunciato di aver presentato una richiesta formale alla Prefettura per mettere fine a disagi e difficoltà che vivono le famiglie residenti nei pressi del centro di accoglienza Fattoria Cerreto a Mociano Sant'Angelo. Questo nonostante l'ordinanza di inabilità e inibizione del 26 maggio scorso fatta dal Comune. La situazione è abbastanza pesante per i residenti, per le famiglie che sono lì nei dintorni della struttura che ospita gli immigrati. Quando sono arrivato ci tengo a precisare che quando è stato deciso che gli immigrati sarebbero stati ospitati nella struttura nessuno ha eccepito, quindi la comunità mocianese è ospitale, è ben educata e rispettosa delle esigenze che al momento attanagliano un po' il paese. Però, giustamente, sono iniziati dei problemi di convivenza e mi hanno chiamato. Hanno chiesto veramente un aiuto molto forte perché non si sentono più sicuri di vivere proprio la vita quotidiana. La consigliera ha inoltre annunciato che a stretto giro incontrerà il vice prefetto. Questo per trovare una soluzione alla vicenda anche perché, come segnalato al Comune di Mociano dalla Cardinali, in quella zona manca una illuminazione adeguata e un sistema di videosorveglianza. Mi hanno raccontato, i carabinieri purtroppo sono costretti ad intervenire, c'è qualche denuncia già in corso, questo sempre da racconti verbali di alcuni residenti. Per cui, ecco, le istituzioni hanno il dovere proprio di esserci perché non è giusto che gente pacifica, tranquilla, non abbia più una vita serena, una vita normale.